Siamo nelle Filippine, al villaggio SOS di Lipa, dove 150 bambini e ragazzi, orfani, abbandonati o in difficoltà familiare, hanno trovato il calore di una casa e l'affetto di una nuova mamma. Grazie a SOS Villaggi dei Bambini, ora sono al sicuro, ma abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Basta un SMS per dare loro le cure mediche, l'istruzione e la sicurezza di un futuro lontano dalla strada. Mandate l'SMS. Ma fatelo adesso! Grazie!